buongiorno buonasera marco pt argomento di oggi ipertrofia e intensità analizziamo in questo video la correlazione tra intensità e sviluppo dell'ipertrofia cos'è l'intensità molto semplice l'intensità secondo la mia definizione il massimo sforzo profuso per completare un sollevamento o una serie di sollevamenti che siano trazioni spinte o accosciate poi a livello di intensità c'è da distinguere in merito al cedimento muscolare o al cedimento tecnico io appartengo alla seconda scuola di pensiero il cedimento muscolare contempla la corruzione dell'assetto quindi non mi appartiene come mentalità ho già fatto un video in merito cedimento muscolare versus cedimento tecnico non intendo ritrattare qua l'argomento ha un senso allenarsi al cedimento per raggiungere l'ipertrofia muscolare perché uno dovrebbe allenarsi al cedimento muscolare secondo la scuola di pensiero menzeriana o yeiziana ha un senso perché soltanto la massima intensità genera l'impulso alla crescita secondo la scuola heavy duty la crescita muscolare cito testualmente è indotta da uno stress anaerobico acuto dato questo parametro che si raggiunga tale acme di intensità con una serie o con una singola poco cambia casomai la questione è quanto recupero impone una serie rispetto a una singola sicuramente portare al cedimento una serie da dieci colpi produce danni maggiori che portare al cedimento un ramping a singole però anche qui dipende dal carico sostanzialmente ma in linea generale per quella che la mia esperienza una singola tirata al limite fa molti meno danni di una serie tirata al cedimento se poi a fine serie si aggiungono negative forzate o respose o parziali il sistema muscolare ha veramente grosse problematiche a recuperare grosse problematiche allora perché allenarsi al cedimento muscolare sostanzialmente è una questione di reclutamento miofibrillare e appunto di indurre il famoso stimolo alla crescita per chi crede nel bodybuilding metafisico la crescita avviene tramite uno stress anaerobico acuto un ragionamento logicamente ineccepibile purtroppo assieme a tutti questi bei discorsi va anche accorpato un ponderato lavoro di gestione del danno meccanico del danno articolare dello stress sistemico tutte cose che riguardano il coaching online che vanno analizzate a parte e potrei fare anche una biblioteca video di 45 ore senza riuscire a sviscerare l'argomento quindi queste cose sono demandabili a chi prende le coaching quando utilizzare il cedimento muscolare anzi scusate quando utilizzare le tecniche di intensità il cedimento muscolare io non lo consiglio neanche ai principianti come nemmeno agli avanzati quando utilizzare l'intensità quando portare al limite questo parametro allora ci si può allenare ad altissima intensità quando si sa come fare un esercizio quando si padroneggia senza esitazione senza dubbi la tecnica di esecuzione l'intensità si può utilizzare quando si è completamente padroni dell'esercizio e quando si riesce a percepire in anticipo quella che sarà la ripetizione o il carico di corruzione tecnica quando voi avete chiari questi parametri potete allenarvi al massacro senza nessun problema se invece imponete tecniche di cedimento tecniche di intensità a un principiante lo state rovinando sia fisicamente che mentalmente perché a livello di concetto a livello di formazione lo state si plagiando ma state rovinando questa purtroppo la realtà delle cose dunque l'intensità si può utilizzare durante tutto l'anno non c'è un periodo in cui allenarsi buffer o allenarsi ad alta intensità nel senso che c'è sempre una proporzione tra intensità volume frequenza e range di lavoro uno può tranquillamente ripeto allenarsi ad altissima intensità tutto l'anno purché vada a bilanciare il volume la frequenza e il range di ripetizioni i bulgari si allenavano precisazione io applico il delle varianti naturalizzate del metodo bulgaro comunque dicevo i bulgari si allenavano ad altissima intensità tutto l'anno tutti i giorni però moderando molto saggiamente il volume di lavoro il range di ripetizioni e dotandosi di tutta una serie di terapie di recupero quindi io non sono assolutamente un macellaio non sono un carnefice semplicemente una persona può puntare su un qualsiasi parametro che sia volume intensità o frequenza o anche il range di ripetizioni ma deve sapere esattamente come bilanciare gli altri parametri restanti chi sono i principali fautori delle tecniche di intensità tutta la scuola anni 90 anni 80 e anni 90 i due maggiori esponenti sono mike menzer e dorian yates il suo star pupil il suo miglior allievo sicuramente ce ne sono moltissimi altri kevin levroni sicuramente ci sono moltissimi altri discepoli di questa scuola di pensiero al cedimento muscolare al cedimento tecnico all'altissima intensità i principali divulgatori e fautori di questo metodo sono stati i ragazzi delle vidiuti menzer e yates menzer si è preso una enorme rivincita allenando dorian yates che poi lo ha riconosciuto come insegnante sei mister olimpia portati a casa per yates dopo la frustrazione agonistica di menzer sicuramente questo non è un fattore da poco ascoltavo l'intervista di london real in cui yates diceva all'intervistatore che menzer ha seguito anche le reazioni di arnold di parcenegra in merito alle vittorie di yates e arnold era piuttosto infastidito dal fatto che le teorie di allenamento di menzer avessero avuto successo su un atleta di bodybuilding agonistico però qua si va nel gossip io poi non parlo neanche di bodybuilding open bodybuilding hardcore perché non è il mio campo questo è soltanto per fare una parentesi storica su il discorso delle tecniche ad alta intensità allora in quali circostanze ci si può allenare ad alta intensità dunque se uno punta ad avere un approccio se uno punta ad avere una grande ipertrofia muscolare puntando sull'approccio ad alta intensità dovrebbe avere uno spotter non è obbligatorio però fa molto comodo io personalmente mi sono sempre allenato da solo salvo rari frangenti attualmente mi alleno da solo però devo utilizzare degli accorgimenti e la panca piana la faccio dentro il power rack con le travi di contenimento se non posso usare power rack allora chiedo assistenza però la chiedo a gente fidata o che ho addestrato io o che so essere in gamba se voi volete fare un tipo di training basato sull'intensità abbiate un compagno di allenamento sveglio le palestre possono sicuramente avere attrezzature predisposte la panca piana in particolare necessita di un compagno veloce a gestire eventuali failure eventuali cedimenti per tutti gli altri esercizi non ci sono sostanziali controindicazioni neanche per lo squat secondo me io poi faccio lo squat frontale quindi anche nella peggiore delle ipotesi in cui non avessi le travi del rack del power rack potrei comunque sganciare bilanciere al suolo senza nessun problema più rischioso cedere sotto il back squat in cui si deve fare il saltino per evitare di essere tranciati dal bilanciere ma anche lì sostanzialmente non grossi problemi non ce ne sono comunque ripeto è consigliabile avere uno spotter se poi si va a intervenire se poi si va a prolungare il cedimento muscolare con tecniche come forzate negative o quant'altro lo spotter lì è obbligatorio uno non può autoinfliggersi delle negative a meno che uno faccia panca piana con un manubrio singolo con due braccia spinga il manubrio poi scenda con uno per fare le negative dopo il cedimento muscolare però qua siamo ai limiti del surreale peraltro sono cose che anch'io ho fatto in passato che non è che mi abbiano dato grandi risultati ecco allora come gestire questo protocollo dunque l'intensità si accoppia sicuramente molto bene con il volume di lavoro ma richiede la monofrequenza invece accoppiare intensità e frequenza va a totale discapito di volume di lavoro e range di ripetizioni uno può allenarsi ad altissima intensità sugli stessi muscoli tutti i giorni ma deve manipolare molto molto bene il volume di lavoro e il range di ripetizioni nel senso che come facevano i bulgari uno può allenarsi anche ad altissima intensità però a singole questa è la faccenda a singole non facendo protocolli volumetrici e non facendo range elevati di ripetizioni i protocolli basati sull'intensità sono sicuramente più affascinanti sono sicuramente più ricchi di dibattito concettuale storiche le diatribe tra la scuola dell'alto volume contro la teoria dei pusher pamper contro pusher anche qua ho fatto un video comunque dibattiti veramente molto accesi che hanno permeato tutta la letteratura del bodybuilding nel diciannovesimo secolo poi nel ventunesimo secolo scusate il diciannovesimo secolo detto sul ventesimo secolo scusate di building nel 1800 scusate hanno permeato la letteratura del ventunesimo secolo e anche negli anni novanta del ventesimo lapsus mio scusate quindi anni del 1990 e i primi anni 2000 poi dopo c'è stato lo tsunami del metodo distribuito che ha veramente spazzato via ogni residuo a questione oggi i protocolli più efficaci secondo me sono quelli che si basano su intensità e frequenza frequenza soprattutto bene per oggi è tutto scusate il lapsus marco pt alla prossima